Ci teneva a dire la sua verità? Ci tenevo tantissimo a dire tutto quello che era da dire, quello che aveva domandato, quello che voleva sapere lui. È stato il giorno della faccia a faccia con il PM. Freddi Pacini, l'imprenditore di Monte San Savino, che lo scorso 28 novembre sparò contro al ladro che si era introdotto all'interno del suo capannone e l'uccise infatti per la prima volta ha raccontato la sua verità. Per liberarmi un po', per liberarmi un po' da tutti i fatti. Basta, quello che avevo sempre chiesto di fare. L'imprenditore indagato per eccesso colposo di legittima difesa in un primo momento si era infatti avvalso della facoltà di non rispondere. Adesso la sua versione è stata messa a verbale. Freddi Pacini, quella drammatica notte, fu svegliato di soprassalto dall'irruzione dei ladri, impugnò la sua pistola, si affacciò dalla finestra interna del capannone dove dormiva esasperato dai continui furti subiti ed esplose cinque colpi contro il ladro, dall'alto verso il basso, uno dei quali fatale che gli tranciò l'arteria femorale causando un'emorragia interna. Ha raccontato quello che è successo, ha raccontato il suo stato d'animo, ha raccontato ovviamente il motivo per cui dormiva lì dentro, ha raccontato anche dei furti precedenti, ha raccontato tutti gli eventi. A confermare la sua versione adesso anche l'esito della perizia balistica che ha chiarito che anche il colpo letale fu sparato dall'alto ma raggiunse il ladro mentre si trovava a terra dopo essere scivolato su dei vetri. Tranquillo perché ho rilasciato quello che dovevo rilasciare al PM. Si tratterebbe dunque di legittima difesa, si potrebbe adesso andare verso l'archiviazione sia alla luce della nuova normativa, mai e ben più larghe, ma anche stando alla vecchia legge. Vorrei precisare che è proprio fondamentale non mettere la parola fine fin tanto che non c'è un provvedimento, ma questo non per essere più cauti di quello che è la normalità, ma proprio per una questione di rispetto della giustizia.